Siamo pronti per la tua campagna, siamo pronti per partire, ma c'è un'ultima domanda da porsi. Quanto chiedere? È importante questa domanda, molto importante, perché prima di tutto il crowdfunding funziona con la formula o tutto o niente. Cioè, se raggiungi l'obiettivo ti vengono dati soldi, se non lo raggiungi non ti viene dato niente, soprattutto viene immediatamente riaccreditato l'importo che hanno pagato i tuoi sostenitori, che in quel modo quindi non hanno nessun tipo di spesa. Purtroppo. È bene prepararsi bene a questo punto e chiedere una cifra che sia effettivamente raggiungibile. Prima di tutto perché una campagna di successo è molto motivante. Oltre a darti dei soldi ti dà una bella spinta per la tua musica e soprattutto ti dà un bello stimolo per continuare. Ti carica, ti porta quell'entusiasmo che è fondamentale per un musicista che vuol proporre la sua musica. Oltre che una bella spinta per il progetto che effettivamente hai lanciato. La cifra da chiedere può essere ben diversa da quella che effettivamente ti serve. Magari hai bisogno di molti più soldi e con il crowdfunding finanzi soltanto una parte. Conviene partire a passi e poi raggiungere l'obiettivo prima possibile per andare anche oltre. Prima di tutto per avere un importo che è effettivamente raggiungibile. Secondo perché una volta raggiunta la cifra puoi anche superarla. Puoi anche addirittura raddoppiare l'obiettivo. Come si fa a stabilire qual è la cifra adatta? Conviene dare un'occhiata ai social. Non tanto ai contatti, al numero di mail eccetera, ma quelli che sono i contatti attivi. Quelli che effettivamente rispondono, quelli che partecipano ai tuoi post, alle tue pagine e le persone con cui hai un dialogo diretto. Per fare questo, sulla home di MusicRacer c'è il crowdfunding calculator che in base ad alcuni dati che mi inserisci ti dice la cifra indicativa che puoi raggiungere. Questa stima si basa su tutte le campagne che finora si sono svolte su MusicRacer. Con successo e non, testato sulla mia pelle ti posso dire che il crowdfunding calculator funziona. Per il mio primo album Days Gone By ho fatto questo test e poi prima di lanciare la mia campagna che trovi il link qua sotto, ho inserito anche una cifra più bassa perché volevo essere sicuro. Infatti dopo 30 giorni ho raggiunto l'obiettivo e ho solo riuscito a fare anche un 20% in più. Senza impegno lo puoi tranquillamente provare e vedere che cifra ti verrebbe fuori. Una volta stabilita la cifra è il momento di partire. Se sei su YouTube iscriviti al canale DJ Nejo, un bel mi piace e segui per tutti gli altri video. Se invece sei su Facebook un bel mi piace e condividi. Alla prossima! Alla prossima!